Gli eventi incendiari che hanno caratterizzato la capitale negli ultimi mesi hanno originato una manovra investigativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, finalizzata a identificare i responsabili di queste situazioni che hanno destato un grosso allarmismo sociale, creando un grosso pericolo per i residenti e per i turisti. L'attività odierna ha portato al fermo indiziato di delitto di un uomo resosi ritenuto responsabile di una serie di eventi incendiari verificatisi nel quadrante nord della capitale, in particolar modo ai danni di esercizi commerciali, tra cui la bancaretta del professore.